buongiorno dacia loggi 7 posti gpl eccola per voi contattateci sempre prima di venire a vedere e provare le nostre vetture che sono qua sui video qui siete sicuri che siano ancora disponibili questo è il prodotto più razionale che ci sia tra le sette posti in circolazione perché una vettura gpl a questi prezzi e vi invitiamo a contattarci per saperli non la troverete sette posti molto elegante anche questo colore che è gratuito che è blu nevi sette posti comodi ed è difficile trovarli difficile trovare sette posti comodi anche su vetture molto più blasonate airbag passeggero disattivabile bracciolo anteriore esp sensori parcheggio posteriori questo qui perché l'allestimento comfort che è l'intermedio perciò anche cruise control computer di bordo navigatore satellitare con ingresso usb oltre cui scontrolla anche i limitatori di velocità climatizzatore comando del gpl 5 marce ricordiamo per chi non lo sapesse che reno è ormai cento per cento dacia e viceversa perciò questo qui essendo dacia e cento per cento reno stessi motori pianali tutti i condivisi con il più noto e blasonato marchio francese vi aspettiamo comunque venite a visionare la vettura provarla ma prima contattateci per averla disponibilità grazie